E' stato inaugurato venerdì mattina a Broni con la presenza di molti sindaci e autorità e nuovo largo intitolato a Anna Maria Filighiera, presidente per 35 anni della Fondazione Cella di Rivara che gestisce diverse residenze sanitarie e assistenziali e alcuni hospice in zona, scomparsa nel marzo dell'anno scorso. Il piazzale, realizzato dal Comune, è adiacente e soprattutto a servizio della Casa di Comunità ma va anche a completare una riqualificazione urbanistica avviata da oltre un decennio nella zona nord-est della cittadina. La decisione di intitolare uno spazio pubblico a Filighiera, ha spiegato il sindaco di Broni, è stata presa in considerazione dell'importante contributo che ha offerto negli anni alla città e a tutto il nostro territorio. Anna Maria, ha spiegato ancora il sindaco Antonio Riviezzi, ha dedicato la sua vita a servizio degli altri lavorando instancabilmente per la Fondazione, le case di riposo, l'hospice e i servizi domiciliari ad essa collegati. Durante la cerimonia è stato ricordato l'impegno di Filighiera, in collaborazione con Comune, ASST e Regione Lombardia, per il recupero dell'ala nord dell'ex ospedale Arnaboldi, oggi sede di un hospice gestito dalla stessa fondazione.